Io sono Fabio, lavoro in una compagnia di assicurazione in Lituania, IG, vivo con la mia ragazza, stiamo insieme da sei anni, mi sono trasferito definitivamente nel 2015, mi sembra, e mi ha spinto a farlo il fatto che stavo con la mia ragazza, che è lituana, da quando sono venuto qua per la prima volta, in Erasmus, nel 2011. Quindi sono tornato in Italia, mi sono laureato e poi ho fatto la decisione di trasferirmi qua. Pensavo di vedere come sarebbe andato, all'inizio l'idea era di stare qua un pochettino, io stavo ancora studiando, non mi ero ancora laureato, stavo scrivendo la tesi, l'idea era finisco di laurearmi, finisco la tesi, poi dopo vediamo che fare. Però poi abbiamo trovato un lavoro qua a Vilnius, sia io che la mia ragazza, e ci siamo trasferiti qua. Perché prima stavamo a Kleiper e ha i suoi genitori, quindi io sono contento. Finora mi trovo bene, la città è molto bella, il lavoro è buono, ho dei buoni colleghi, sto bene. Io sono venuto con un amico, eravamo già in due. Non conosciamo il posto, eravamo qua per la prima volta, però ci siamo trovati bene perché alla fine a Kleiper eravamo pochissimi Erasmus, quindi abbiamo creato subito un bel gruppo e ci siamo aiutati a vicenda. Il freddo, perché quando sono arrivato c'erano meno 24 gradi. Io sono sardo, quindi in meno 24 sono 30 gradi sotto la norma invernale. Poi vabbè, magari la lingua, perché non tutti parlano inglese. Poi a Kleiper è più difficile trovare una persona che parla inglese. Especialmente nei negozi, magari sono persone anziane che lavorano e se non parli un lituano o un russo ti trovi un po' spiazzato. Trovo difficile fare delle cose burocratiche in maniera indipendente. Cioè andare da solo in un ufficio e fare le cose da solo, anche se un pochino me la cavo con il lituano e anche se tutti parlano bene o male l'inglese in questi ambienti, è sempre difficile andare là e dire devo fare questo. Fa paura. Allora il livello è un B1, attestato dall'insegnante lituano qualche mese fa. Quindi è un livello, non si può dire, turistico. Cioè riesco ad andare al negozio, fare la spesa, chiacchierare, ma niente di serio. Non si parla di politica. L'ho studiato quando ero a Parma, brevemente, perché era uno dei esami a scelta dalla mia università. Poi l'ho studiato quando ero qua in Erasmus, sempre le basi. E recentemente a lavoro hanno organizzato un corso di lituano, quindi ho approfittato della cosa, sì, dell'opportunità. Ho provato un po' tutto in realtà perché ho un libro scritto da uno dei miei professori dell'università, che è una grammatica lituana in italiano. Poi, vabbè, ho fatto le lezioni, la professoressa aveva delle fotocopie, ci ha fatto vedere le video, ascoltare le canzoni, eccetera. Poi ogni tanto cerco di ascoltare la radio, di ascoltare le persone che parlano. Ecco, ascoltare le altre persone mi ha aiutato molto. Quando le persone parlano, forse un po' scortese, però cerco sempre di ascoltare quello che dicono e cercare di capire. Mi sento un po' intimidito quando devo parlare una lingua che non so di parlare bene, quindi magari a volte ci provo, però mi rispondono quasi sempre in inglese perché capiscono che è lì, lì, basta, farlo inglese. Parlo spagnolo, sardo, poi ho base di francese, tedesco, basta. Uso l'inglese e l'italiano perché lavoro con gli italiani e poi, vabbè, ascolto il lituano. Quando mi capita di chiacchierare con i colleghi spagnoli, magari qualcosa in spagnolo ci esce, diciamo. Ho studiato lingue. Sì e no, cioè mi sono utili perché comunque per una serie di cose alla fine mi sono trasferito all'estero. Però se io fossi in Italia non penso che sarei in grado di trovare un lavoro recente come quello che faccio adesso grazie alla mia laurea. Di non avere aspettative particolari, cioè alla fine è uno stato come un altro. Se una persona è capace e vuole farsi notare nell'ambiente laborativo, eccetera, le possibilità ci sono. Quindi un consiglio, non so, parlare bene l'inglese. E venire qua non con l'ottica sì e no, cioè mi manca casa, mi mancano gli amici, la famiglia, il mio paese. Però alcune cose non proprio. Assolutamente un'altra cosa che mi manca è il cibo. Per quanto mi piaccia il cibo lituano, trovare le cose, i supermercati, la verdura fresca, tutto di stagione, sono cose, sì, qua è un po' diverso. Una cosa di cui faccio volentieri a meno, prendo da un paese piccolo forse la gente che ti osserva ogni cosa che fai, che sta a guardare ogni piccolo particolare della tua vita. Forse questa cosa viene più dal fatto che io vivevo in un paese che non dal fatto che vivevo, non è una cosa prettamente italiana, si è il tempo. Cambierei il meteo, lo farei diventare come quello sardo e poi metterei tutte le frutte e verdure di stagione, le carni sardi, i formaggi sardi. E una spiaggia, perché no? Una spiaggia a Vinnis. Eh, ne prendo un pezzettino e lo metto qua davanti a casa. Sì, ho due colleghi italiani e poi vabbè conosco altri italiani in generale. Tramite amici ho... mi è capitato anche di vedere le persone per strada e di parlarci capendo entrambi che siamo italiani. Sinceramente no. Qua vivo un po' la vita di coppia, non è che esco tutti i venerdì sera, sabato sera, più che altro magari mettiamo gli amici a casa o vediamo una cosa con loro. Più persone che già conoscevo da prima. Conoscendo colleghi a lavoro ho avuto possibilità di espandere un po' le conoscenze, però oltre a quello è molto bella. Proprio è veramente bella la visitare. Poi è molto internazionale, puoi trovare veramente persone di tutto il mondo, letteralmente di tutto il mondo. È una città piena di cultura, ci sono tante cose da vedere. Non è solo bella fuori, ma è proprio... è viva. Piacerebbe abitare un po' più vicino al centro, perché da qua è difficile partecipare a volte alle cose. Sì, questo è molto bello. Puoi trovare quasi tutto, nonostante non sia troppo grande. Non è una Milano, una Roma, che è proprio caotica, impossibile da girare tutta. Però puoi comunque trovare le cose che puoi trovare nella capitale, nonostante sia piccola. Un bel po' di cose in realtà, a parte il meteo e le cose fresche nel supermercato, che sono la mia fissazione. I trasporti, che a Vilnius non sono il massimo. Poi vabbè, magari sono io che abito troppo lontano, è sempre un casino arrivare in centro, però è... Gli autobus sono un po' vecchi, un po' sgangherati, poi non si sa mai quando passano alcuni. È sempre un po' difficile muoversi con loro, con gli autobus. Poi è carissimo muoversi con gli autobus, perché ha gli stessi prezzi che c'erano a Parma, praticamente. Io ho vissuto cinque mesi con l'Elitas, e poi vabbè, quando ero in Erasmus c'erano l'Elitas. Devo dirti che c'è un grosso cambiamento, perché quando ero in Erasmus noi avevamo una borsa di studio molto piccola, di 230 euro al mese. Ci pagavamo l'affitto, ci uscivamo, ci mangiavamo, cioè, facevamo tutto quello che dovevamo fare da Erasmus, quindi sai che magari si usciva un po' di più del normale, eccetera, e riuscivamo a starci senza problemi. Adesso, specialmente con l'avventura dell'euro, però erano già aumentati prima in realtà i prezzi, perché mi ricordo quando arrivai in aeroporto si mangiava un panino e si beveva qualcosa con uno o due euro, in Litas ovviamente. Adesso ci sono gli stessi prezzi che ci sono in aeroporto a Bergamo. Cioè, tu prendi un panino e ti costa 5-6 euro, quindi in sei anni è un bel cambiamento grosso, secondo me. Sì, dall'euro è ancora peggio, però già erano aumentati prima. Allora, in Italia ci torno sempre per le vacanze, perché comunque la famiglia è la, gli amici sono là. Poi in Italia tornerei sempre per le vacanze, anche se non ci fosse la famiglia, perché secondo me abbiamo dei posti bellissimi e che è impossibile visitarli tutti in una vita sola. Tornerei a viverci, mi piacerebbe, perché comunque mi sentirei più a casa, perché nonostante qua si sia bene, eccetera, c'è sempre quella sensazione di non essere, di essere lontanissimo da casa. Però non lo so, non so se ci sono delle possibilità per me per tornare, se ne vale la pena, perché qua ho un lavoro sicuro, ho la possibilità di vivere abbastanza bene, e là potrei fare i sacrifici e tornare, ma perché dovrei farli se qua sto bene? Se avessi lo stesso lavoro, con uno stipendio ovviamente equiparato al mercato italiano, cioè l'equivalente che io prendo qua, lì, probabilmente tornerei. Però il lavoro che faccio qua in Italia lo fanno quelli laureati in economia, in giurisprudenza, quindi non so. Più che il lavoro, la possibilità di vivere decentemente, perché io tornare in Italia e dover far fatica a arrivare a fine mese, preferisco stare qua. Poi alla fine la mia ragazza è straniera, non ho mai imparato l'italiano perché non ne ho mai avuto bisogno ovviamente, e anche se lo imparasse c'è sempre un po' in Italia, secondo me, il pregiudizio degli stranieri e sarebbe 30 volte più difficile per lei vivere in Italia piuttosto che per me vivere qua. Io qua ho trovato lavoro facilmente, ho cambiato già, sono già il mio secondo lavoro in Lituania e mi è bastato cercare e l'ho trovato. Non ho fatto 40 colloqui, non sono andato in 30 diverse compagnie, non mi hanno letto, le faremo sapere, sono andato a un colloquio, mi hanno apprezzato e sono stato preso in un'altra compagnia. Basta. Questa cosa secondo me in Italia non la trovo. Allora io qua vedo che ci sono molti giovani che si laureano molto presto, perché il sistema universitario qua è molto più strutturato, è strutturato in maniera molto migliore, che parlano 3-4 lingue già a 22 anni, 23 anni, e che si inseriscono nel mondo del lavoro con delle capacità che io a 22-23 anni mi sognavo. Forse se dessero la possibilità ai giovani di formarsi in maniera più efficace e di avere queste conoscenze, perché io parlo 3 lingue, che in Italia forse è una cosa, non dico che sia una cosa spettacolare, perché io non la sento come una cosa spettacolare, però quando parlo con le persone nel mio paese, che magari è una realtà un po' strana perché è piccolino e la gente è un po' diversa, però mi sento un po' come una persona più istruita dalle persone che ho attorno. Qua invece mi sento, non dico un pezzente perché vabbè magari no, però vedo gente di 21-22 anni che è competitiva, che lavora nella mia stessa posizione dove la media dell'ufficio è di 28-29 anni e vedi gente arrivare a 22-23 anni che inizia a lavorare, subito parlano tante lingue, è un ambiente diverso. Se ci fosse questa base per i ragazzi italiani, se riuscissero a darci questa possibilità di formarci, derivare con delle capacità, già con delle conoscenze particolari a un'età giovane, a un'età di 22-23 anni, secondo me la situazione cambierebbe di molto. Non è solo l'istruzione, anche le piccole cose. Qua se vai al cinema i film sono in inglese, non c'è il doppiaggio per la gente che non vuole, perché non è che non capisce, che non vuoi capire, perché se tu ti impegni, se tu ci metti, la lingua la impari, non stai studiando, non lo so, stai studiando fisica o qualcosa di astruso e particolare. L'inglese è una lingua semplicissima, se una persona si mettesse a studiare e ad ascoltare ci vuole uno, due anni, tre anni, poi la impari. Qui i bambini guardano i film in inglese con il sottotitolo in italiano. La mia ragazza parlava inglese già due, tre anni e non è la sua lingua, perché qua la lingua è lituano, la gente parla lituano, non inglese. Però tutti quanti parlano o il russo, perché venendo dall'Unione Sovietica molti hanno dovuto studiare la scuola, o l'inglese perché si adeguano. Il mondo è quello, siamo in Europa, se vogliamo muoverci un attimino fuori di casa, l'inglese è una necessità, anche se vuoi fare il turista, perché se tu vai in Germania, in Lituania, Polonia, in Francia o dovunque, il punto comune che puoi trovare con le altre persone è la lingua inglese, che aiuta te e aiuta gli altri, semplicemente. Non è che lo studiamo perché gli inglesi sono snob e non vogliono imparare le altre lingue, lo studiamo perché aiuta noi. Secondo me è già solo questa piccola cosa di mettere la possibilità di vedere i film in lingua originale, che sono molto più belli in lingua originale, secondo me, aiuterebbe già tante persone a fare orecchio in un'altra lingua e a pensarlo in maniera diversa sulle altre nazioni, ad aprire un pochino la mente che questi pregiudizi che ci sono in Italia verso gli stranieri sono un po' antiquati.